Salve a tutti, sono Alessandro Napoli e sono uno dei vincitori al Bando Torno Subbio 2016. Grazie a questo progetto ho avuto la possibilità di realizzare il mio sogno di lavorare e svolgere un tirocinio verso la NASA. Il mio progetto riguarda l'annotazione igienica e assemblaggio genomico di un batterio estremofilo. Questo batterio è uno dei candidati ad essere utilizzato per il live supporto su Marte. Ciao a tutti, mi chiamo Leona Pochi e sono un'assistente sociale specializzata sui minori in contesti di conflitto. Grazie a Torno Subbio sono in Medio Oriente da dicembre e sto conduciendo un progetto di ricerca riguardo le conseguenze della guerra nei minori siriani e palestinesi. Quindi mi muovo sul confine siriano e allo stesso tempo analizzo la situazione che c'era la Cisciordana e nella striscia di calza a causa dell'occupazione israeliana.